siamo qui con toni grazie per essere qui con noi di hot corn grazie a voi senti toni e hai fatto parte di un grande esordio settembre stato premiato giustamente ai david che cosa ci puoi dire di questa esperienza e cosa ti porti magari soprattutto dopo questa vittoria allora ti devo dire che settembre è stato veramente una piccola magia perché io ho incontrato giulia e barbara una settimana prima dell'inizio delle riprese ci siamo riunite anche con sarà casani che la casting anche lei ha preso un premio giustamente ci siamo incontrate una settimana prima abbiamo letto il copione io per la prima volta e devo dire che è successo subito qualcosa ridevamo siamo commosse e quindi anche per me è stata una piccola magia poi trovarmi sul set con con giulia che è una regista di grande determinazione grande sensibilità e che sa stare sul set e con gli attori in un modo veramente particolare è molto raro perché è accogliente accoglie le nuove idee ma sa anche esattamente quello che vuole quindi devo dire che si impara molto stando con lei sul set oltre che ovviamente con gli attori straordinari con cui non avevo ancora mai lavorato e spero di rifarlo però devo dire è stato veramente una piccola magia senti tu sei uno di quei casi di una di cantautrice poi attrice ma insomma i ruoli in questa tua carriera si ibridano ma se dovessi scegliere tra una cosa saresti capace o no ci ho provato in passato perché ero stata un po bombardata dal fatto dalle io sono stata forse in italia forse forse la capostipite di questo diciamo di questo fenomeno tra virgolette che poi invece in america era già molto presente e quindi c'era un po di scetticismo nei confronti di di questo tipo di commistione di arti e quindi ho cercato di decidere ma sempre con grande infelicità per cui ho deciso per la mia felicità di accoglierle entrambe con tutta l'energia possibile beh anche perché ovviamente è una scelta troppo difficile è una scelta difficile perché la musica la conosco da sempre l'ho seguita da sempre lei ha seguito me e il cinema che ho incontrato sono un po più tardi mi ha veramente mi ha veramente cambiata mi ha cambiata è un lavoro è un mestiere meraviglioso che di cui non riescirei proprio più a fare a meno sempre diverso sempre sorprendente da cui si impara tanto a livello umano a livello professionale continuamente quindi sì penso che mi migliorerà come persona anche lo sta facendo e senti in questo lavoro hai dei miti dei personaggi ai quali ti ispiri magari non lo so ho tantissimi miti anche nel mondo della musica ovviamente ma guarda per esempio io ricordo che che uno dei momenti in cui cercavo di decidere o che mi sentivo così costretta a dover scegliere quale strada guarda le interviste di Cher che per me ha fatto poche interpretazioni ma tutte cioè proprio memorabili per me sorprendenti stupendi c'è questo film che si chiama sirene con in cui lei fa una mamma un po' matta insomma vabbè quindi devo dire lei è stata una di delle mie ispirazioni ho pensato come come fa essere così brava in tutte e due le cose così spontanea così così amata anche perché lei era amatissima io volevo cercare di rubare delle cose i i suoi segreti magari collaborare un giorno con Cher sarà difficile però un sogno è sempre un sogno certo certo però allora magari scendiamo un po' più in basso di Cher c'è qualcuno con cui vorresti collaborare un giorno nel tuo lavoro beh sì sono tante persone mi piacerebbe in realtà mi piacerebbe tanto rilavorare con con le persone con che ho già lavorato perché ho amato profondamente Barbara ho amato profondamente Luca Luca Marinelli ho amato profondamente Virzi, Lucchetti, Giulia Steck devo dire mi piacerebbe rilavorare con le persone con che ho lavorato in questo momento ti direi questo poi sicuramente c'erano tante altre nuove esperienze ma non saprei scegliere perché appunto come ti dicevo sono sempre sorprendenti quindi ho sicuramente dei miti ma ho anche cose ancora da imparare sicuramente dalle persone con collaborato